Ma che presa il cibo è? Ma secondo me, ma secondo me, secondo me da 14 mesi giuti, senza lavorare, noi come cazzo contiamo? Ma secondo me questa non è una costa ondata che stiamo volendo tutti, usurari, mafia, ce lo stiamo facendo tutti a fallimento, ma peggio di questa, 40 mesi, aspettiamolo, stiamo volendo, che tutti si metti, che non lavoriamo, che ti aiuti, come cazzo ti fa, e te l'avanti, come, 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 l'ho data.